Dati insieme a me un caloroso benvenuto sul palco a Joe Bastianich. Come stai? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Buongiorno, grazie. Your English is pretty good? A little bit. I love it. Would you like to do it in English? We can speak in English. Possiamo parlare in Italian, come vuoi. Io sono adeguato alle tue esigenze. Parliamo in italiano, secondo me. Accomandati, sediamoci. Io sono super felice di fare questa chiacchierata con te perché lo scopo di queste conversazioni è parlare appunto del rapporto tra Stati Uniti e Italia, confrontare le nostre culture e con te potrei parlare di qualsiasi cosa e quindi ci proveremo a parlare un po' di qualsiasi cosa. La tua storia secondo me è un po' un esempio del sogno americano, nel senso che hai cominciato da figlio di immigrati, immigrati italiani negli Stati Uniti, all'inizio con delle attività di gestione familiare, gestite anche dai tuoi genitori che poi tu hai contribuito ad allargare, a espandere anche all'estero. Ti chiederei innanzitutto se pensi che la tua storia sia un caso, un esempio di sogno americano, se esiste il sogno americano o se è una cosa che ci raccontiamo. Guarda, la mia esistenza, io ci credo molto in questo concetto che soffriamo la nostra vita, allora io sono un vittimo di quel che ho vissuto nei sensi positivi e negativi da un bambino giovane in periferia di Queens, New York. Sono nato nel 68, l'ho vissuto negli anni 70 da un bambino in una zona che si chiamava Storia, Queens, era pieno di emigranti, greci, italiani, Ugoslavia a quel momento. Era un mondo molto mano a mano, nel senso che essendo la mia nonna, Germinia, che è emigrato dall'Iste italiana dopo la guerra, queste sono gente che hanno sofferto la fame, campi di concentramento, sono stati portati in New York e la Caritas Cattolica, hanno dato i primi soldi per comprare banane che non hanno mai mangiato, ma non è una storia abbastanza drammatica. E questa nonna che mi ha cresciuto, in qualche maniera mi ha insegnato che noi siamo meno dei altri, non meno mentalmente o culturalmente, ma nel status siamo di meno. Allora dobbiamo lavorare di più, studiare di più, essere più intelligente per arrivare a livello. E quella è una cosa quando proprio ce la prendi in testa da quando sei nato, una cosa che non va via. Allora questa sempre ricerca di arrivare e non arrivare mai, magari ti porta anche verso l'American dream, tutto che viene in questa cultura americana che abbiamo, che è molto diversa dalla vostra cultura. Ci sono delle diverse fondamentali che speziano i due paesi in maniera incredibile. Perché tutti gli italiani pensano che conoscono l'America. Io sono stato a New York, ho visto Grand Canyon, andiamo a Miami, a Los Angeles. Io amo New York. Conosco l'America. Non conoscete niente dell'America, perché l'America non è New York, Miami, Los Angeles. L'America, come tu sai, sei stato a questi posti, è tutta un'altra cosa. Allora capire la vera America è un compito non di poco. Tu ti sei dedicato la vita come giornalista a farlo. Stai arrivando pian piano, magari un giorno arrivi, però non è facile. No, no, ma non è facile. Non è facile per niente. Al di là del... No, ma è divertente, ma è vero, nel senso che io ho dedicato la vita a fare questa cosa qui e ogni volta che vado negli Stati Uniti mi rendo conto che ci sono cose che non ho capito, che non ho afferrato, che non sapevo. Anche io, anche io. Noi facciamo queste chiacchierate, queste conversazioni, anche perché poi quest'anno sarà un anno in cui inevitabilmente si parlerà molto di Stati Uniti, visto che andiamo verso le elezioni. Tu che sensazione hai? Sei pessimista? Sei fiducioso? Che aria tira nel Paese? Guarda, è una situazione sicuramente non ottimale tra tutte e due scelte. Vince Biden, vince Trump, alla fine gli americani, quelli bravi, arriveranno a fare quel che deve fatto e l'America continuare a dare avanti e sarà sempre forte. Non è la fine del mondo, qualchiunque dei due. Il Presidente, se conoscete un po' la sistema di politica, ha potere, più di tendenza di attitude che veri potere per cambiare delle cose, perché c'è la legislazione, c'è il Congress, c'è il Senate, c'è il US Supreme Court. Allora il Presidente un po' porta la tendenza. Sì, Trump manda punti di fanculo, Biden accoglie i profughi di tutto il mondo, però alla fine c'è una struttura istituzionale che porta avanti il nostro Paese. Allora uno perderà, uno vincerà, le mente giuste arriveranno al posto giusto e gli Stati Uniti andranno avanti. Ti sembra che le persone siano effettivamente più incattivite, come a volte si dice oggi rispetto a 20, 30 anni fa? Beh, è diventato un mondo sicuramente di maggior comunicazione con la social media, tendenze. Noi siamo una società super woke, non si può dire niente di niente di nessuno più. Devi fare molta attenzione. E anche cancel culture, sono tutte cose, secondo me siamo estremi in tutte le cose in America. Anche in questo woke culture, forse il pendulum è andato fino all'estremo, poi eventualmente torna, come tutte le cose. Però il woke culture magari anche fa danno a un principio più fondamentale del constitution degli Stati Uniti dell'America, il First Amendment. Il primo emendamento, che è la libertà di espressione sopra ogni cosa. Che è la cosa più importante in America, l'espressione totale. Abbiamo visto adesso nelle università, con la guerra in Israele e Hamas, come è stato proprio percepito questo a un dettaglio così veramente... è difficile a spiegarlo. Il dibattito sarebbe già di suo complesso e delicato, parlando di quelle cose lì, ma il dibattito viene ulteriormente complicato dalla sopra discussione su questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, hai detto questa cosa e diventa tutto ulteriormente avvitarsi in una cosa che non importa delle soluzioni. E questa è una cosa che ho visto un po' meno qua. Anche qui arriva pian piano, ma qui è un po' diverso. Ma infatti parliamo di tutte queste differenze e adesso cerchiamo di esplorarle e io interrompo un attimo l'intervista per presentarti anche Riccardo, che ci ascolta in regia, che è il mio coautore, ma non solo, è un grande sondaggista. Noi lo chiamiamo... Una? Un grande sondaggista. Ok. Un po' il nostro Nando Pagnoncelli. Se fossimo in America, sareste il nostro Frank Lance. Riccardo, sei d'accordo? Eccomi, Francesco, grazie, grazie per questa presentazione. Fate un applauso a Riccardo, accoglietelo, grazie. Ci tenevo a fare una premessa. Addirittura. Sì, perché durante la prima serata di Downtown avevo proposto dei fotomontaggi che avevano avuto grande successo, tra l'altro. Grande successo, ma sulla base di cosa lo dici? Vedete, con questa domanda adesso mi cogli un po' impreparato, ma non è questa la cosa che conta perché la cosa importante è che io ho colto la tua lezione, la lezione del tuo monologo, e dato che anche io voglio avere un'alta propensione al rischio come gli americani, ho deciso di non riproporle questi fotomontaggi nonostante il grande successo. Ma hai preparato delle altre cose oppure volevi solo intervenire per dire che non hai fotomontaggi? No, visto che mi hai presentato come sondaggista ho preparato dei sondaggi, prego salvo di agevolare la nostra pregevole grafica. Sei sempre tu il grafico anche, oltre che il sondaggista mi pare. No, qui c'è tutto uno staff di persone che lavorano per te, cosa ti credi? Comunque, sono due sondaggi presi da un portale molto affidabile che tu menzioni spesso nei tuoi approfondimenti che è YouGov, sono due sondaggi a tema food dato all'ospite della serata. Il primo sondaggio che ti propongo è questo qui, preferite le alette di pollo con le ossa o senza ossa, come vedete c'è una prevalenza del con, senza 29, entrambe 22, nessuna delle due. Non so, il perché di questo sondaggio lo lascio spiegare a te perché so che è una storia che ti sta molto a cuore, quindi lasciate il piacere di spiegarla a Joe. No, ho scoperto da qualche mese in realtà poi una storia che racconta anche nel libro nuovo che esce tra poche settimane, che le alette di pollo senza ossa non sono delle ali di pollo da cui sono state tolte le ossa o dei nuggets a forma di ali di pollo ma sono dei petti di pollo tagliati a forma di ala di pollo. Chicken strips. Chicken fingers. Chicken fingers. Ditte di pollo. Tu come ti schieri? Con o senza ossa? Sì, ma questo è un discorso un po' complesso. Ovviamente con sono quelli giusti che si mangia con, senza sono quelli un po' sfigati che pensano di mangiare alette di pollo invece mangiano chicken fingers. entrambi sono quelli che vorrei mangiare alette di pollo ma mangiano pollo intieri e nessuno delle due, cosa vuol dire? Non mangi pollo totalmente, io magari sono del 3% che non so. C'è sempre quel mistero su chi sono quelli che nei sondaggi rispondono non so, non risponde e in questo caso abbiamo invece la soluzione. Avevi anche un altro sondaggio? Sì, il secondo sondaggio che ti propongo. Speravo di no. questo, pensate che i ristoranti e i negozi dovrebbero consentire ai clienti di andare in giro scalzi, c'è una netta prevalenza del no. Ma c'è una questione quindi sull'andare in giro scalzi. Ovviamente io mi sono immediatamente chiesto il perché si fossero spesi dei soldi per fare un'indagine, una rilevazione di questo genere e ho scoperto che è tutto figlio del fatto che in America esiste un grande, un grandissimo movimento in difesa della libertà di andare in giro a piedi scalzi che si appella al fatto che non esista una legislazione chiara in materia. Ma perché andare in giro scalzi è la domanda che mi faccio, ci sono dei benefici? Loro sostengono di sì perché ovviamente in America sorgono associazioni in difesa di qualsiasi cosa e una delle associazioni che sostiene questo diritto... Ah, proprio al sito anche. Questa è la home page della Society for Barefoot Living. È una delle tante associazioni che sono sorte appunto per tutelare questo diritto. Loro organizzano dei raduni, offrono assistenza legale a chi poi incorre dei problemi... Assistenza legale al diritto. Questo stile di vita, non so, andando al lavoro scalzo, cose di questo genere e a questo punto è la cosa che mi viene da chiedere a Joe se qualche rappresentante, qualche iscritto a uno di questi movimenti si è mai presentato in uno dei suoi locali o ristoranti con la pretesa di cenare e andare in giro scalzo. Certo, questo è un discorso molto importante, infatti si alza il percentuale che non so a 11%, allora è un discorso molto più intellettuale. Difficile. Allora, del scalzo devo dire che io anche che coro c'era un periodo che correvo scalzo, anche 5-10 km di scalzo. In pista, per strada... Per strada. Wow. Che è una cosa veramente incredibile, se non l'hai mai provato chi corre ti cambia totalmente l'allenamento della schiena e del corpo, perché noi siamo animali, nel senso che abbiamo camminato scalzo per tanti più anni che abbiamo le scarpe, allora forse i nostri corpi naturalmente vanno in quella tendenza, magari se non ti sta bene la schiena prova a camminare scalzo. Poi c'è la tendenza di grounding, che è avere una connessione con l'energia della terra. È una tendenza di benessere del Wimbledon, sai in America c'è tutto di stare bene, benessere, è super importante, allora il grounding. Per entrare nel ristorante scalzo, hai mai visto Fast Times at Ridgemont High, il film con Sean Penn negli anni 80? È fantastico. Lui si chiamava Jeff Specoli. Qualcuno l'ha visto? Zero. Ahiaia. Best Times at Ridgemont High, è uno dei gran classici della cinema degli anni 80. Il primo ruolo importante di Sean Penn, che lui faceva un surfer in California, in Venice Beach, dove andava al fast food, entrava senza camicia, senza scarpe, e voleva ordinare. E il direttore del ristorante dice, no shirt, no shoes, no dice, man. Aiaiaiai. Allora non si poteva mangiare. Oggi come oggi, dipende, realmente si può fare. Se tu vai a Venice Beach. Nessuno si formalizza. Se vai in qualsiasi ristorante scalzo, nessuno ti dice niente. Noi siamo un paese di libertà totale, allora se tu vuoi senza camicia scalzo andare in ristorante ti fanno mangiare. San Francesco c'è una legge che, se non sbaglio, permette di camminare nudi per strada, se vuoi, senza... Qualcuno lo fa, peraltro. La libertà è bella. No, infatti, infatti. Ma guarda, ringraziando Riccardo, che forse poi sentiremo più avanti per un altro imperdibile momento, volevo tornare appunto sugli aneddoti sulla libertà, sulle origini. Parlavamo prima del fatto che sei cresciuto, la storia nel Queens, in un contesto anche non semplicissimo. Com'era la New York di quegli anni, anche per un immigrato, oltre che in generale? Sì. Bene, allora, sono cresciuto, sono nato, mio papà faceva il cameriere, mia nonna e mia mamma lavoravano sotto la casa nostra. In una storia c'era una pasticceria, Walkins Bakery. Di quel Christopher Walkins, peraltro. Della famiglia di Christopher Walkins, l'attore. Conoscete Christopher Walkins, no? Qui, se dite no, vi fate fare una figuraccia. Grazie. E niente, siamo cresciuti in quell'ambiente, mi hanno aperto il primo ristorante nel 1970. In quel periodo, adesso ovviamente la ristorazione ha preso questo mondo di tendenza mediatico, ma in quel periodo io mi ricordo di essere imbarazzato a dire ai miei amici che i miei avevano un ristorante, perché era un lavoro veramente… Non era prestigioso. Non era prestigioso. Prestigioso era il dentista, essere un commercialista, un concessionario di macchine. Essere un ristorantore era un lavoro molto sfigato. Poi, il ristorante non era il ristorante solo. Il ristorante era casa, era dove ci vedeva la famiglia. Tornavo di scuola, andavo a casa, andavo al ristorante, mangiavo con la famiglia, andavo giù, facevo due cose, facevo i compiti sulle scatole dei pomodori, aspettavo che chiudessi il ristorante, fino alle undecime addormentavo, mi portavano a casa e facevano la stessa cosa. Il ristorante era un po' la salvezza di un immigrante senza la capacità di comunicazione, di lingua che si può fare un stipendio per sostenere la famiglia. Abbiamo cresciuto in un mondo molto mano a bocca, si sentiva di essere povero, di non avere tanto. Infatti, si capiva subito dai confinanti, anche in quel periodo di New York, non perché, si capiva chi era subito. Tu sei italiano, tu sei greco, tu sei irlandese e tu sei ebreo. E si viveva molto gli italiani con gli italiani, gli ungheresi con gli inglesi? Anche misti, anche misti insieme, ma erano tutti un po' figli di immigranti. magari gli ebrei avevano immigrazione un po' più di anni prima, allora erano un po' più benestanti, gli irlandesi avevano un'altra tendenza, tutti con loro pregi e difetti culturali, ma dai ragazzi si capiva subito la nazionalità dei tuoi compagni, perché lì già ti metteva in una posizione culturale. E niente, era un mondo... Era pericolosa? Da qui si sa che in New York negli anni 70, 80 c'era molta criminalità. Sì, hai visto tipo Fort Apache, The Bronx... Un po' di film anche che hanno raccontato. Io sono conosciuto quella cosa. Abitavo in Queens, andavo al Subway, andavo al South Bronx a scuola ogni giorno, negli ultimi anni 70. Era un periodo molto crudo, molto bello di New York, no? Perché guardi anche i film di quell'epoca, c'è gli artisti Basquiat, Andy Warhol, erano giù in Soho, facevano l'arte. Io ho vissuto nel Queens, dove nasciono nel 78 Ramones, no? Proprio nel quartiere mio. Kiss, Queens, New York. Allora il primo punk rock nasce nel Queens, praticamente nel 78. Le ragazze prendevo il Subway, CBGB's, Bowery, a vedere le matinee dei Ramones, sabato pomeriggio, fumare sigarette a 11 anni in strada, a vedere i Ramones. È vero. E poi, durante la settimana, andavo a scuola nel South Bronx. E cosa succede nel South Bronx? C'erano questi ragazzi, anche lì, 78, 79, i primi break dancers. E cosa nascono quelli che facevano il break? Il DJ, che parlava mentre loro break, e diventano i primi DJ. E nasce il primo rap. Hip hop nasce nel Bronx, nel stesso momento della nascita di punk rock nel downtown Manhattan. Allora, se tu pensi di quei due generi di musica, tutto che ascoltiamo in questo momento nel mondo nasce un po'. C'era il Beatles, c'era Elvis prima, però da hip hop parte tutto un mondo, da punk rock parte un altro. In due quartieri dello stesso momento. In due quartieri del stesso momento nascono quelle due musiche che io partecipavo. Dopo scuola c'erano i DJ, le feste nel Bronx, nei appartamenti dove facevano i primi DJ, i primi rap, i primi break dancers. Ho vissuto quel momento come punk rock in the Ramones, on the Bowery at CBG. Allora, una grande fortuna culturale. Era una città un po' più sporca, però molto piena di vita, di arte. Costava di meno. Ancora gli artisti potevano vivere nella città. C'erano zone brutte abbandonate, ricuperate dai artisti. C'era quel sviluppo di una città proprio in fermento. Certo, meno turismo anche sicuramente rispetto a... C'era meno turismo. Era un bellissimo periodo. Quella cultura mi ha formato tantissimo, specialmente della musica. Della musica. Ci arriviamo. Perché il primo ristorante, quello dei tuoi del 70, è il Bonavia. Poi ce n'è un secondo che è il Villa Secondo. Ma chi davano i nomi a questi ristoranti? Bonavia. Bonavia, però vi ricordo un po'. Però la Villa Seconda sarebbe il secondo ristorante. Villa Seconda, certo. Però è il terzo ristorante, mi sembra che cambia un po' le cose, perché è il primo che aprite a Manhattan. Sì, è vero. Nei primi anni 80 nasce un po' anche il momento di nouvelle cuisine, ma anche i primi ristoranti proprio autentici italiani, no? Nel 80. Gli ingredienti italiani di qualità arrivano per la prima volta, il riso arborio, aceto balsamico, olio di oliva, prosciutto, mozzarella, spedizione di cibo via aereo, tutto nasce in quel momento. La mia mamma, essendo ambiziosa, voleva entrare nel gioco. I primi ristoranti era cibo italiano-americano, no? Vio parmesan, shrimp scampi, eggplant parmesan, alfredo, ferrucini alfredo, quelle cose lì. Spaghetti meatballs. Spaghetti meatballs. Non ti piace spaghetti meatballs? Mi offende. No, peraltro è un piatto veramente italiano, spaghetti meatballs. Mia nonna faceva la pasta con le polpette. Tu che chiami un hamburger un panino. C'era però quindi un'idea di mettere insieme una parte di cultura statunitense con questo ristorante e un'altra di prodotti di alta qualità italiana. Sì, però c'era un po', mia mamma è entrata di niente, faceva la cassiera nel primo ristorante, si è messa in cucina, ha iniziato anche nell'epoca a fare i piatti un po' triestini, istriani per i clienti. Sai che loro avevano i clienti ibrei, quei immigranti, dei parenti che venivano dell'est Europa, che era molto sensibile anche al cibo che si fa da noi a Trieste. Allora lei proponeva la iota, i crauti ripieni, le sarme, tutto questo cibo e loro rispondevano bene. E lei ha avuto l'idea di aprire un ristorante, allora hanno venduto tutto, rischiato tutto, ho comprato un piccolo palazzo nella 58 Second Avenue nel 79, hanno quasi fallito la costruzione, è andato tutto male, pregando le banche di soldi, in un miracolo, hanno aperto questo ristorante nel 1980 che si chiama Felidia, un altro nome sfigato, mio padre era felice, mia mamma era Lidia, Felidia. Da lì anche fa parte della mia storia perché mia mamma andava in Italia, si girava nei anni 80, abbiamo girato tutte le tre stelle in giro della macchina in Italia durante l'estate, sai non c'era la recondizionata, facevo 43 gradi, con le finestre aperte in autostrada. Era ancora una grossissima scommessa, non eri ancora il grande imprenditore Joe Bastianich, quindi era da fare sacrifici. A vedere cosa era la vera cucina alta italiana per interpretarla. Quello era il momento di Guardiero Macchiesi che ha un po' lanciato tutto ciò che è la cucina moderna italiana oggi. E loro partono con questo ristorante che ha successo. A livello di status, a quel punto era diverso avere un ristorante a Manhattan, o era ancora non vista come una cosa così? No, essere in Manhattan era status, già in periferia era più sfigato, in Manhattan perché se vedi gli anni 80 era la crescita della borsa, proprio Wall Street, come lo vedi nei film eccetera eccetera, giravano i soldi, pompato di cocaina, ambizione, tutte quelle cose, erano dei anni dove la gente girava, spendevano tanti soldi, proprio il primo mondo che vedi nei film, del gente che vanno al ristorante nasce in quel momento. Loro avevo l'opportunità di aprire un ristorante che stava un po' in quel mondo, è andato molto bene. In tutto questo parlavamo un attimo fa di cultura italiana del cibo, cultura statunitense del cibo, entriamo nell'argomento che non possiamo evitare. Se ti parlo delle differenze principali tra il rapporto che abbiamo in Italia col cibo e negli Stati Uniti col cibo, cosa ti viene in mente? Beh, qui il rapporto con il cibo è super personale, intimo, come vedete, sacro, tradizione, di qualità, siete come un paese di tradizione molto collegato sull'agricoltura, siete molto vicino alla tradizione, avete una cultura di cibo ricca, ampia, diversa, da una città all'altra, cambiano le ricette. La biodiversità di questo paese è unica nel mondo, la diversità di, anche se sono cose 9.000 chilometri di costa, è un paese che nasce in centro Europa con le Alpi, finisce più sud del nord coast di Africa, biodiversità incredibile, venti, mare, terreno fertile, biodiversità, avete tutto qua per creare una cucina, è sempre stato, è una cosa bellissima. Infatti, io ho fatto una carriera di prendere, interpretare la cultura vera di cibo italiano, portarlo un po' in mondo, è stato il mio compito, un po' della mia vita. Sì, ti ha reso una specie di ambasciatore, negli Stati Uniti ti conoscono e ti riconoscono per questo ruolo di portare la tradizione anche italiana. Sì, l'ho fatto nella mia maniera piccola, nel mio primo ristorante che ho aperto nel 92, che si chiama Beco, che è ancora aperto. Però poi ho fatto la prima trattoria romana a New York, si chiama Lupa, che è aperto nel 96, che già una trattoria romana non esisteva nel concetto in America, stiamo parlando di 25 anni fa. poi abbiamo un po' inventato il crudo, che non era una categoria, poi anche il crudo qua. Chi mangiava crudo 20 anni fa? Nessuno. I pescatori, forse in Venezia. Si considerava forse una cosa pericolosa. Sì, sì, sì. E abbiamo portato tanti, interpretando e sviluppando come il concetto di storiazioni, noi siamo cercati sempre di portare l'autentico e presentarlo al consumatore americano. Il consumatore americano è un consumatore molto generoso, molto studioso, vogliono le cose autentiche e vogliono essere e mangiare pertanto bene. Allora rispondano a chi si impegna a fare le cose bene. Poi ho conosciuto Oscar Farinetti, abbiamo lanciato Italy in America, con il Flatiron, che è aperto 15 anni fa. Anche lì sono passati tanti anni. Poi con le mie aziende agricole, producendo il vino, altre cose. Sempre portando dell'Italia, poi portarlo in America, anche Corea, Giappone, Singapore, un po' nel mondo, Messico. Però io ho vissuto su quello. Parlando proprio del rapporto tra noi italiani, gli americani e viceversa, chiederei a Riccardo se per caso ha avuto modo di elaborare le risposte a una storia su Instagram che avevo pubblicato qualche giorno fa, chiedendo degli input ai miei follower. Sì, certamente sì, Francesco. La settimana scorsa avevi appunto chiesto ai tuoi follower di scatenarsi su questo tema. Prego, salvo di mandare la prossima prestigiosa grafica. Unpopular Opinions Italia contro Stati Uniti. Allora, io ho raccolto… Hai messo il cerchietto rosso su Joe per evitare che ci confondessimo. Sì, per distinguere. È utile. Diciamo che ho raccolto le risposte più interessanti di questo sondaggio e ne ho estrapolato una mappa concettuale. Una mappa concettuale addirittura. Va bene, vediamo questa mappa concettuale. Sì, mandiamo la prima parte della mappa. È un elenco. Così però banalizzi tutto il mio lavoro e quello dei grafici. No, no, no. Hai anche… Andiamo avanti. Questa mappa concettuale… Non so, se volete commentare qualcosa. Andiamo a leggere questo. Te ne leggo alcune io. Unpopular Opinions degli italiani, secondo loro tra noi e gli americani. Gli americani sono in media più ospitali degli italiani. A me sembra effettivamente così. Team Stati Uniti vincerà un mondiale di calcio prima del prossimo dell'Italia. Non mi sembra fattibile. La cultura della mancia mi sembra assurda. Questa è una cosa che molti italiani pensano, della cultura della mancia. Infatti è una cosa bellissima. È bellissima. Io amo lasciare le mance. È proprio una cosa che dopo una bella esperienza, lasciare 20-25%, qualcuno che ti ha fatto stare bene, è una cosa molto americana, mi piace farlo. Però se non la lasci, mentre in Italia nessuno ti dice niente, se vai via da un ristorante americano senza lasciare niente di mancia, ti inseguono fuori dal locale. Sì, non va bene. Fa parte del sistema. Certo. Magari non 20, puoi anche lasciare 15-12, però qualcosa devi lasciare. Sarà poco ecologico, ma io adoro la temperatura che gli americani hanno nei locali dei negozi d'estate, l'aria condizionata. Chicago è overrated, non direi proprio. Annalisa è meglio di Taylor Swift, sembra azzardato. Cenare alle 18 non è poi così male. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Tu ceni a orari italiani o a orari americani? Io alle 6 e mezza ceni. 6 e mezza. È molto meglio. È meglio. Vigerisci, puoi fare delle cose. Sì, sì. Devo motivi particolari, però... Concordo. Il mac and cheese è buonissimo, sono d'accordo. Il caffè americano è meglio dell'espresso. Non so, tu cosa bevi? Il caffè... Entrami. Entrami. In Italia è molto più facile fare business. La faccia di Joe, diciamo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, beh, guarda, il mondo sta cambiando, specialmente post-Covid con il lancio dei social media, adesso con l'AI, l'intelligenza artificiale, sta cambiando le cose a una velocità incredibile. Cosa vuol dire? In qualche maniera, forse, America sta diventando un po' più come l'Italia, Italia sta diventando un po' più come l'America. Però ci sono diversità fondamentali tra la mentalità americana e quella italiana. Quando vi chiedono questo spesso, magari avete sentito questa risposta. Però il senso di successo. Se io ho successo, i miei amici sono contenti per il mio successo e vogliono stare con me, magari che il mio successo aiuta loro. Non c'è un'invidia verso il successo di un altro, del tuo confinante. O anche tentare di dire no, ma hai fatto successo perché qualcuno ti ha aiutato, perché non era merito tuo di smontarlo. Sì, hai fatto successo, sei contento quando uno fa successo. E poi anche il concetto che successo non è definitivo, falimento non è fatale, è la voglia di continuare che conta di più. E io vivo su questo tema qui, perché è veramente così. Perché anche un falimento, io ho falito tantissime volte, e devi riprendere, il falimento non può essere fatale, non puoi uccidere, tutti faliscono in un certo momento. Devi lasciare indietro un falimento, vai avanti, fai altre cose, avrai successo un'altra cosa. Non puoi vincere tutto, specialmente se fai tante cose. Allora, questi sono concetti, io non ho paura del falimento. Mi succederà, mi succederà il futuro, mi è già successo e va bene. È importante vincere più che falire, non alla fine. Però quel concetto che io sono una persona brutta o incapace perché ho falito è assurdo. Ti sembra che questa cosa però qui ci sia? Sì, un po' sì. Sicuramente un po' più che in America. Uova e bacon meglio di cappuccino e brioche? Altra un popolare opinion. Un giorno uova e bacon, un giorno cappuccino e brioche. Dobbiamo limitarci. Hai anche la seconda parte? Sì, ecco qua la seconda parte. Di questa mappa concettuale? Questa è la seconda parte della mappa concettuale. Volevo soffermarmi sulla prima. Non so se questa persona è presente in sala. Gli americani fanno fatica a fare i conti a mente per dare il resto. Non so che esperienza ha avuto questa persona ma com'è fatto capire che l'altro stava facendo i conti a mente? Magari era solo pensieroso. Sì, magari sta pensando a qualche altra cosa. Sono d'accordo. La pizza americana, la New York pizza è nettamente superiore addirittura a quella napoletana. Guarda, io credo che la pizza al taglio al New Yorkese può funzionare a Milano e a Roma. Molto buona. Adesso sta avendo un momento veramente di crescita di qualità. Tu puoi prendere un petto di pizza al taglio a New York che è buonissima. E sta avendo un momento di grande successo potrebbe funzionare. Forse lo faccio io. Non so, non si sa. Se si riesce a vendere la pizza americana agli italiani è un capolavoro. La cucina italiana come la vendiamo nel mondo viene dagli immigrati italiani negli Stati Uniti. Il parmesan lo hanno fatto gli italiani in Wisconsin. Sì, beh, un po' il sounds like è un problema. Allora, guarda, questo paese ha tanti tanti vantaggi, tante fortune. I vostri prodotti, la tradizione, i cibi di qualità, la produzione di cose DOP. Dovete proteggere queste cose. Perché a difenderti in questo mondo avete tanta, tanta di quella produzione tra il vino, tra il cibo, che devi essere protetto. Allora andare in giro per il mondo e proteggere il Made in Italy è un compito vostro fondamentale che dovete farla. L'altra fortuna che avete qua, che per gli americani Italia è un sogno. Io vado adesso, sono tornato una settimana fa. Ogni persona che parlo, i miei amici, i famigli, tutti vengono in Italia quest'estate. E questi americani non vengono per prendere, affittare la casa per 400 euro alla settimana. Loro per una famiglia americana vengono qui, vuol dire che in una settimana spendono 50-70 mila dollari, che è una bancazza normale per una famiglia benestante. Questo è una cosa incredibile per l'Italia, che tutti vengono in Puglia, iniziato con Toscana, adesso si allarga. Più monte sta avendo un boom di turismo americano. Non solo americano, ma anche in tutto il mondo benestante. Non c'è più quella cosa che l'americano arriva a Roma e fa Roma, Firenze, Venezia e va via. No, vanno in Puglia, Sicilia, dopo ovviamente White Lawrence è diventata una cosa incredibile. Tutti gli americani vanno in Sicilia. Allora, quando vengono qui, trattali bene. Nel senso che se vogliono un cappuccino alle 5 di pomeriggio, dallo, non sta a schifarlo, no? Se vogliono gratticiare... È vero che il servizio è molto diverso. L'americano pensa che se il ristorante è aperto posso mangiare a qualsiasi ora, se voglio fare colazione tardi. In Italia c'è, no, questo prima delle 12, no, questo dopo lo facciamo. Sì, ma anche il livello di servizio cerca... Sono abituati a un livello forse un po' diverso. Però è una cosa importante, è una fortuna per questo paese il turismo americano e anche altri che arrivano qui. Alla fine il turismo sarà un parte del GP di questo paese enorme, enorme. Allora sono cose che anche l'Italia può fare. Comunque l'immagino dell'Italia da un americano normale è fantastico. Loro pensano che qui è tutto fantastico, tutti vestiti in Prada, tutti... Tutti magri. Sì, magri, hanno la Ferrari, hanno la villa accanto a George Clooney, se non la casa Amalfi, sono tutti belli come si vede nel film. Loro pensano in Italia, sono tutti così, no? E loro vengono qua, vanno a Capri, prendono l'albergo per 4.000 dollari la sera, vanno a mangiare la trattoria al limone, prendono la spaghetti e le vongole per 48 euro e stanno benissimo. E piacciono questo concetto dell'Italia. Poi la vostra realtà è un po' diversa. Comunque l'immagino del made in Italy, la moda, la bellezza, il style, Milano come il mondo di moda di tutto, la villeggiatura Amalfi, adesso la Puglia tira tantissimo, ovviamente la Toscana, il vino. E' una cosa incredibile, e loro amano questa cosa, amano venire qui. Allora, l'americano ama l'Italia, e pensa che tutte le cose che vengono in Italia sono perfette e belle. Non capiscono veramente che succede qui, ma sti stanno. Quello nemmeno noi che tanto, quindi. Gli americani lavorano meno degli italiani. Non so, no, infatti. Mangiare sano in America è una cosa per ricchi, ed è molto costoso. E' vero. E' vero. Mangiare proprio, se tu vai in Centro America, se dove state, trovare qualcosa che non è fritto, che non è barbecue, che non è... E' molto complicato. Non c'è un'insalata, non c'è una verdura, non c'è niente. Se chiedi l'insalata ti arriva col pollo sopra, o col bacon. Una volta ho chiesto l'olio d'oliva, e sono andati in cucina a cercare. Eravamo nel profondo Texas, e non avevano l'olio d'oliva in un ristorante, che per noi italiani è una cosa incredibile. Sono culture di cibo diverso, però se vai a Los Angeles, Miami, New York, c'è tutto quello che vuoi. Anche forse più specifico, più macro, più vegano, tutto più estremo. Dipende da dove vai. Istruzione e sanità sono meglio negli Stati Uniti che in Italia. Potremmo fare quattro convegni soltanto su questa frase delicata. Il commissario Montalbano è molto più figo di Ethan Hunt. Tu guardi la tv italiana, i prodotti tv italiani? No, niente. Gli americani, perché? Come mai? Hai fatto la tv anche in Italia? Sì, ma io non guardo la tv che faccio, no. Nemmeno quella che fai tu? No. Come mai? Non ho visto neanche una puntata di Masterchef. Di Masterchef. È vero. No, ti credo, ti credo. Ti racconto perché, questa è una storia vera. Quindici anni fa mi ha chiamato Gordon per fare le prime puntate di Masterchef USA. anche lui era più giovane e mi disse un giorno, do un consiglio. Non sta a mai guardare il prodotto finito perché ti cambia in qualche maniera. Fallo, fai il tuo, fai il naturale e non sta a mai guardare e vederai che andrà bene. È un consiglio sensato. Sì, funziona. Gli americani sono molto lenti nel servizio. Non mi pare. No. Anzi, l'esperienza tipo in un ristorante americano, e questo vale per un ristorante di qualsiasi livello, è che il cameriere o la cameriera ogni 10-15 minuti viene spontaneamente... Ti vogliono vendere un altro bicchier di vino, un dolce... Ti chiedono se tutto va bene, se vuoi qualche altra cosa, quindi sono piuttosto... No, siamo avuto l'ospitalità in quel senso. E poi come lavoro principalmente per mance, fare il servizio, allora a meno sembrare che fanno un servizio positivo è una cosa che funziona per loro, allora lo fanno. Sì. Grazie Riccardo, allora magari ti sollecitiamo un'altra volta prima della fine della nostra chiacchierata. Grazie a voi. Riccardo, hai già preso il secondo applauso, questo spontaneo della serata, mi sembra un successo. Parlavamo prima dei tuoi inizi, della tua vita da piccolo, tu non eri destinato, o forse sì, a fare questo mestiere, nel senso che hai studiato filosofia e teologia, sbaglio? Teologia, sì. Volevo essere a un certo punto un accademico, mi piaceva molto leggere e scrivere, poi l'università ho finito nell'88-89 e capivo che tutti i genitori dei miei amici che avevano il Porsche, la casa sul mare, lavoravano nella borsa, non facevano l'università, allora ho deciso beh, anche io non voglio essere povero, allora questa roba della borsa vado, mi invento come uno di Wall Street, è proprio, avete visto Wolf of Wall Street, no? Sì. Allora, io nasco in quell'anno proprio lì, in quel mondo, e ho preso il primo lavoro come bond trader a Merrill Lynch nel 1989, ho preso l'appartamento in Battery Park City, col 38 piano con la vista di Statue of Liberty, e ho iniziato la mia carriera di Wall Street, ho preso i abiti fighi, le braces, le cravate, e lì sono durato un anno, un anno e mezzo, ho fatto molto bene, ho guadagnato, ho ricevuto il bonus, però lì è un mondo che altri decidono quanto è successo che tu avrai. Il tuo capo, se sei antipatico, ti può anche dare di meno soldi, e questo non mi andava bene. Io ho detto, ma, son giovane, son bravo a fare questo, però io voglio essere in controllo del mio destino. A quel punto ho parlato con mia mamma, ho detto, vai, non lo so, voglio, forse fare una cosa diversa, e lei mi disse a quel punto, perché non vai a vivere in Italia per qualche mese? Fai un giro, ti do due numeri dei miei amici nel mondo del vino, eccetera, eccetera, e sono partito per un viaggio di 18 mesi, mi sono comprato una Volkswagen Golf 5 Porte a Trieste, sono partito, ho fatto tutta l'Italia, fino a Pantelleria, girando nella mia macchina, anche vivendo dentro, lavoravo nei ristoranti amici dei miei, nella cantina, e sono finito a Pantelleria nel 1990, facevo il pizzaiolo alla villa di Giorgio Armani, e da lì sono tornato in America, ho detto, beh, cosa posso dire? Mi sono innamorato del mondo del vino, poi, come un ragazzo di Queens, che non ha mai fatto niente, si può iniziare, può partire con un'azienda agricola, ho avuto un'idea, ho detto, mi trovo una figlia di un conte toscano, me la sposo, entro dentro, non è andato bene, niente, allora sono tornato a New York, ho imprestato 80 mila dollari della mia nonna Arminia, e ho aperto il mio primo ristorante, Becco, e lì nasce un po' il trucco del mio processo, poi dopo due mesi che ho aperto Becco, arrivano questi gruppi di toscani, tutti mi ridevano, dicono, Becco, Becco, cosa vuol dire Becco? Ho detto, Becco vuol dire, sai, il Becco che mangia, che assaggia le cose, ho detto, no, no, vuol dire un'altra cosa, e non sapevo. Beh, è rimasto però. Ma adesso va di moda, perché sono tutti cornuti. Certo. Qual era la differenza, se c'era una differenza nel concept del ristorante di Becco, rispetto a quelli che avevi fondato con i tuoi genitori, il fatto che questo fosse il tuo? Sì, beh, quello era una cosa molto, molto stretta, con pochi soldi, ho preso una zona molto dove, tipo la zona dei teatri, che almeno preteatro c'era sempre. Allora, io dico sempre che failure was not an option, il pallimento non era un'opzione, doveva funzionare in qualche maniera. E lì ho imparato un po' il mestiere, gestivo ristorante, andavo ai mercati, comprare il pesce e verdura, ho imparato il mestiere, era un ristorante con prezzi super, super umili, per gestire un cliente che andava al teatro, da lì nasce un po' tutto il resto. Da lì sono passati trent'anni, nel frattempo tu hai aperto, come ci raccontavi, un sacco di altri ristoranti, ed è cambiato anche un po' il business della ristorazione, immagino, in questi trent'anni. Com'è cambiato? Assolutamente. Adesso, beh, è un altro mestiere, il costo è molto simile, il costo del prodotto è molto più alto, il costo dipendente è più alto, il gioco diventa più grande. Nei vecchi tempi mio padre, il restaurant man originale, diceva tu investi dei tuoi soldi, incassi 100, ti metti 20 in tasca e quella è la regola della ristorazione. Nessuno adesso riesce a marginare il 20% del ristorante. Se sei bravo, fai 10, 8, 7, 5, i margini sono molto 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 più piccoli che una volta. Poi anche il rischio è molto più alto dell'impresa, tanti dipendenti, giri tanti soldi, la gente ti fa una causa, diventa un gioco un po' più complicato, molto più grande. La globalizzazione, il social media, il fatto che il mondo è diventato più piccolo, che è più facile sapere che cosa si mangia in Italia, anche se non sei mai stato in Italia. Questo ha cambiato un po' anche l'idea di ristorante. Io ho visto una cosa che ho lanciato qui in Italia dopo Covid, proprio fare barbecue autentico, abbiamo lanciato il Joe American's Barbecue al mercato centrale. Sentivo proprio che anche in Italia volevano due anni di guardare i telefoni Instagram di tutto questo cibo, volevano anche il cibo autentico, allora si ci siamo messi a fare proprio authentic American barbecue come si fa in America, studiato, bla bla bla, poi smash perché vogliamo fare altre cose. Il scambio diventa qua e là, non è come una volta che tutto solo Italia in America, portiamo un po' di America in Italia, che va bene. Quando oggi hai una nuova idea di un nuovo ristorante, di un nuovo business, qual è l'idea forte adesso? Qual è la cosa che fa funzionare un ristorante, per esempio? Adesso un po' il ristorante classico non mi interessa più, io sono stato la fortuna di lanciare alcune brand tipo Sweet Green che è una catena di insalate che è andato in borsa due anni fa, Banza Pasta che è una brand di pasta che andrà in borsa prossimo anno, adesso abbiamo lanciato l'antico vinaio, la scacciata di Firenze, abbiamo 8-10 aperti, apriamo 20 prossimo anno in tutta l'America, però non è che io sono un collector of talent e mi succede tanto in Italia, ho fondato fuori dell'azienda di burger, di barbecue, un'azienda di pubblica, di social media management, di digital marketing, sono socio nell'azienda dei più grandi produttori di cannabis in Italia, Flower Farm, abbiamo B prodotti di cannabis, Banja Cola, Flower Gin, altre cose, però io sono, quando vedo talento, ragazzi talentuosi che sono fermati perché della sistema, perché la paura per proprio non avere il capitale, io non ce la faccio, devo portare, ok, facciamo un SRL, metto io i soldi, voi siete i miei soci, facciamo questa cosa, prendiamo l'ufficio e loro poi partono, per fare quel primo passo è molto difficile per tanti ragazzi qui in Italia, allora io mi vedo come uno collezionista di talento. E anche di un potenziale inespresso, cioè quelle persone il talento ce l'avevano ma senza magari il tuo aiuto in quel momento non sarebbe… Non è solo sempre per fare soldi, solo anche per fare parte di una cosa di ragazzi talentuosi che hanno capacità o in cucina, su digital media, su altre cose, e far parte di una crescita di un'azienda che nasce da niente diventa una cosa importante e mi dà una soddisfazione incredibile, che io posso aiutare quello e fare parte di una cosa è una grandissima soddisfazione. Immagino. Noi abbiamo cominciato questa conversazione parlando di In & Out, ma tu collabori con la più grande catena di fast food al mondo. Anche più buona a volte, si chiama una piccola ristorazione che si chiama McDonald's. Che cosa vuol dire per te arrivare a collaborare con un gigante di quel tipo? Guarda, non perché sono io, ma chi meglio di me per raccontare McDonald's agli italiani? Certo. Perché anche quando ho detto, tutti mi hanno detto, oh non puoi farlo, ti parlano male di te. Guarda, il McDonald's per me, io abitavo sopra il McDonald's, al secondo piano in questa casa in Astoria. Io sentivo il McDonald's ogni mattina, ogni sera nella mia finestra, quell'odore del fritto, del hamburger, buonissimo. Certo. Mia nonna mi portavo quando ero bambino bravo a cinque anni a prendere il Happy Meal, era il momento più felicità della mia vita. Per me McDonald's è parte della mia vita, è sempre stato, ho vissuto sopra, andavo da bambino, andavo sempre, ma anche per gli americani, anche gli imprenditori più importanti, i presidenti, tutti vanno a McDonald's una volta al mese, magari non mangi ogni giorno, ma è una parte della nostra vita, è normale, è buono, è sano, magari non devi mangiare ogni giorno, ma fa parte della nostra cultura, è una cosa normalissima, fatto bene, con grande dignità, è un successo di ristorazione incredibile nel mondo, e hanno fatto una cosa veramente importante e bellissima McDonald's, per me. Io trovo molto bello il fatto che tu riesca a tenere insieme mondi che con superficialità potremmo considerare molto lontani dall'alta cucina a McDonald's, ma che invece nel tuo racconto hanno un filo che li lega e che funziona perfettamente. Mi chiedevo se a questo punto possiamo far continuare questo filo e uscire dal tema della cucina e parlare, tu ne accennavi poco fa, della tua esperienza nella musica, della tua carriera da musicista, quando nasce, perché? È un business, è passione? No, è totalmente passione, sono cresciuto con la musica, guarda, torniamo a quel bambino di dieci anni, con i suoi amici nelle periferie di New York, io mi sentivo al difetto che la mia famiglia era italiana, il nostro caso è Queens, era un borgo italiano su un angolo, nel garage non c'erano macchine, c'era fermentazione di salumi, di vino, di carne, non c'era erba, erba via, produzione di cimo, pomodori, melanzane, il padre mio che suonava… C'era l'orto, l'orto, totalmente orto, orto al cimento, perché erba è inutile, non da produzione, c'era mio padre che suonava la fisormonica e la mutande, la mia nonna che faceva il giardinaggio con la Regis Sergio fuori, sai, guardavo i miei confinanti che si chiamava Graf, e la moglie era un tedesco, aveva questa moglie bionda, alta, bella, due bocce così, con le gambe dipelate, e io ho detto, ma io voglio una mamma così, e allora avevo un Porsche, il mio padre aveva un Mercedes-Benz 220 degli anni 71, una macchina sfigatissima, che non poteva stare in garage perché c'era il vino, allora io ero un po' imbarazzato della mia realtà, poi i miei mi parlavano in dialetto e tutti capivano che si parlava in e io volevo essere americano come tutti gli altri. Allora, la musica, conoscerla, puoi suonarla, che la mia nonna mi ha fatto la chitarra, suonarla con il primo band e fare un'immersione totale, a quel periodo era, come ha detto, Ramones, che è però anche cresciuto su Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, The Who, tutta la roba inglese, poi anche American Eagles, Doobie Brothers, Grateful Dead. Contra Rock. Sì, ho fatto un'immersione nella musica molto importante, è la mia maniera di diventare più americano che gli americani, vivere questo modo di musica, facevo molto parte del mio lifestyle di un ragazzo. L'ho portata sempre con me, ho sempre suonato, a un certo punto l'ho messo da parte quando ho aperto 40 ristoranti, chissà perché l'ho fatto, e poi l'ho ripreso 15-20 anni fa, suonavo sempre, però anche, guarda, io ho iniziato a fare televisione a 40 anni, allora ho vissuto tutta una vita prima che ho fatto Masterchef la prima volta. Allora la televisione mi ha aperto un mondo più artistico, capivo che potevo far divertire la gente, farli ridere e quello ti dà una confidenza. Allora magari mi ha anche ispirato, dico, beh, provo a cantare, no? Cantavo, però lo provo. E da lì cresce questa necessità di esprimerti in una maniera artistica, che è una cosa importante. Forse se dovevo cambiare una cosa nella mia vita, essere più espressivo nella mia creatività prima quando ero più giovane. Però lo porto sempre con me. Dato che parliamo di musica, e di musica anche country rock, devo chiederti cosa pensi di Taylor Swift? Beh, sta facendo una cosa incredibile, sta a Milano il 14 luglio, ci sarò io, per la prima volta, guarda, ha sconvolto tutto, il più grande del Beatles e Elvis messo insieme. Ma se tu dovessi spiegare agli italiani, che molto spesso se non seguivano Taylor Swift da prima, che cosa è successo? Perché Taylor Swift è famosa da tantissimo tempo, ma negli ultimi anni c'è stato qualcosa che è cambiato. Allora, dimmi te, San Siro due serie sold out, 80.000 persone, chi sta andando a vederla? Un sacco di gente. Un sacco di gente, vuol dire che non sono solo io. No, no. Lei ha riuscito a comunicare alla ragazza normale un senso sulla difficoltà nella vita di crescere una bambina, di tutte le problemi dei ragazzi di crescere che le bambine hanno, da adolescence fino a teenagers, e ha trovato una maniera di comunicare con loro che lei si presenta e scrive delle cose vere e tocca un veno così potente in tutte queste ragazzine che magari non c'era mai prima una persona, lei è bella, figa, tutto, però anche abbastanza normale nella sua crescita e lei scrive e parla delle cose normale e le ragazze la adorano, tutti la adorano. È un fenomeno veramente incredibile. A proposito di comunicazione di nuovo chiederei a Riccardo se ha qualche altra perla da condividere con noi prima di salutarci stasera. Purtroppo sì. Bene, muoio, anzi muoro dalla curiosità. perché è arrivato il momento che temevo di più, ma anche quello che tutti quanti qua dentro aspettavano, cioè quello di svelare finalmente che cosa contenga quel barattolo che c'è davanti a voi sul tavolo. Ma siamo arrivati così bassi che dobbiamo andare a pescare le cose che ho sbagliato in televisione dieci anni fa in italiano per rendere queste persone felici. Eh sì. In estrema sintesi. In estrema sintesi sì. Si può alzare il livello. Ma puoi anche allargare ed estendere la risposta come preferisci. Ma lascerei a te l'onore. Lasciamo Riccardo prima a spiegare il gioco. Quello è un generatore di frasi di Joe Bastianich, ci sono alcune sue frasi che sono diventate un cult. Quello che faremo questa sera è un esperimento, cioè proveremo a rispondere a delle grandi fondamentali domande di cultura e di storia americana con una frase di Joe. Quindi Joe ti chiediamo ogni volta che apparirà una domanda di pescare un fogliettino dal generatore e di leggerlo ad alta voce e vediamo cosa diavolo viene fuori. Ci abbiamo anche una grafica per questo format. Giusto. Partiamo sì con la prima domanda. Vai con la prima domanda Salvo. Ecco. No, qui. La tua opinione sulle prossime elezioni americane. Se pensate che le prove difficili siano già state, vi sbagliate. Le prove difficili devono ancora arrivare. Beh, beh, è la cosa che ci dicevi anche prima, c'è ancora molto altro dopo. Vabbè, fin qui liscia. Questa è una domanda, vabbè. Lo sbarco sulla Luna è avvenuto davvero? È come un film di olore. Lo prendiamo come un sì. Un altro? Attenzione. Cosa c'è all'interno dell'Area 51? La tua ragazza sarà il tuo bastone tra le ruote. Non facciamo altre domande. Non ci siamo, non ci siamo. Ci fermiamo qui. Domanda fondamentale, la prossima. Perché gli americani mangiano la pizza con l'ananas? Molto buona, peraltro. Se posso dare la mia un po' polar opinion. Buonissima. Buonissima, infatti. Devo rispondere con questo. Ma puoi anche dire la tua, poi, in realtà. Beh, in realtà la pizza con l'ananas è veramente buona. Veramente buona. Recentemente ci sono anche qualche altro fenomeno italiano che si è attaccato. Una cosa che mi tengo personalmente mia. Però la pizza con l'ananas è una cosa che facciamo da sempre. È buonissima. Il principio è mettere insieme il salato, il dolce, l'acidità. Va bene. Abbiamo l'ultima domanda. Certo. Una domanda che ci attanaglia da più di vent'anni. Se Jack fosse salito sulla zattera insieme a Rose, parliamo di Titanic, si sarebbe salvato? Attenzione a quello che peschi. James Cameron ci fa ancora parlare di questa cosa dopo trent'anni. D'illusione totale. Aiaia. Grazie Riccardo, grazie mille. Grazie a voi, è un piacere. Senti, ma dopo la musica hai dei altri progetti imprenditoriali che non riguardano il cibo in altri campi? Sì, sempre magari anche un po'... Ho fatto già un po' di teatro come questo. Vorrei fare di più. Un po' raccontarmi con la musica. Ho fatto una cosa che si chiama Vina Veritas qui a Milano un po' di anni fa. Cos'altro? Sempre più musica. Niente, anche prendere la vita, viaggiare un po'... No, in sostanza tranquillo. Ti chiedo le ultime cose prima di salutarci. C'è qualcosa che hai imparato magari lavorando in Italia con i ristoranti, con le tue attività qui, che ti porti dietro e che ti è utile quando lavori oggi nel tuo paese che sono gli Stati Uniti? L'Italia. Sì, beh, qui un po' anche il rispetto tra generazioni di persone. Noi in America siamo una cultura molto disposable, no? E qui vedo un rispetto per quelli che vengono prima, che hanno creato, anche che possono fare delle cose fighe a un'età più grande. il rispetto per i noni, che è una cosa importantissima che dà tanta struttura, tanta saggezza a chi riesci a prendere, a chi ha vissuto già una cosa e trattarli con rispetto, a prendere il meglio delle persone più anziane, che è una cosa molto italiana, molto valida e che lo uso io nella mia vita, lo porto sempre con me. Cerco di insegnare le mie squadre in America che è importantissimo sfruttare la gente più grande che hanno avuto l'esperienza nella vita. È interessante perché, se vuoi, è il contraltare l'opposto della cosa che raccontavo io all'inizio sul fatto di non avere il senso del sacro, di dimenticare il passato molto facilmente. Ed è vero che c'è in questo una grossa differenza rispetto all'attenzione che c'è in Italia per quello che è stato, per chi può insegnarti qualcosa. E allora, a proposito di guardarsi indietro, noi abbiamo cominciato questa chiacchierata e tu ci hai raccontato di quando facevi i compiti sulle scatole di pomodori iniziando a lavorare in un ristorante da figlio di immigrati che voleva sentirsi americano in un quartiere di periferia e abbiamo visto poi che cosa è successo dopo in tutti quegli anni e dove sei adesso. L'avresti detto quando eri quel ragazzino anzi che faceva i compiti che non solo ti saresti sentito pienamente americano ma che avresti avuto una bella carriera piena di soddisfazioni. Non so, avevo avuto la fortuna di avere questa nona Emilia che mi diceva, fuori dal fatto di tutta quella storia di immigrazione, mi diceva, Giuseppino, tu sei bello e bravo e puoi fare quello che vuoi nella vita. Io ci credevo e ci credo ancora. Grazie mille. Gio Bastianich. Grazie di cuore. Grazie mille, grazie per essere stati qui, grazie al Teatro Carcano naturalmente, noi ci rivediamo con la prossima serata di Downtown a marzo, l'ospite lo annunceremo a sorpresa come sapete più avanti. Grazie ancora e buonanotte. Ciao.